Le parrocchie di Battipaia hanno trovato un bel dono sotto l'albero. Nei giorni scorsi il comune ha disposto l'emissione dei fondi per i luoghi di culto. Si tratta di fondi risalenti ai anni 2014 e 2015. La parrocchia del quartiere Sant'Anna riceverà 14.285 euro, stessa somma alla chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù. La parrocchia del quartiere Taverna delle Rose riceverà 7.142,84 euro per il 2014 e altrettanti per il 2015. Altri 14.000 euro sono stati indirizzati alla chiesa Sant'Antonio di Padova. La parrocchia di Serroni ha ricevuto in liquidazione i contributi per il 2014 e il 2015. La chiesa centrale Santa Maria della Speranza ha invece avuto il contributo del 2014, pari a 7.142 euro. Alla parrocchia Maria Santissima del Carmine invece gli uffici ordinano un trasferimento di soli 1.350 euro.